Questa dove noi ci troviamo è la sala delle udienze che fu quando Florenzia non era ancora un ducato ma una repubblica e in questa sala si amministrava la giustizia della città però il duc che vuole mettere un qualche cosa che lui rappresentasse ricordate voi il suo emblema la sua impresa la tortuga con la vela che significa di affrettarsi lentamente e così è il mismo guardate a quella statua dipinta come di due donne di due femmine in lacciate che una prende la chioma all'altra ecco che la sia il tempo con una fraccia in fronte e una faccia al retro l'avete vista e l'altra rappresenti l'occasione che vada colta al momento opportuno senza troppo di fretta e neanche troppo lentamente come una brava tortuga con una vela sul guscio e vedete